Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo nell'analisi dei fin di guerra parlando di uno sceneggiato Rai sulla Prima Guerra Mondiale, andato in onda per la prima volta il 4 novembre del 1961, 4 novembre ovviamente anniversario della vittoria nella Grande Guerra, uno sceneggiato di 45 minuti che diede avvio alla programmazione dell'allora secondo canale Rai, poi divenuto Rai 2. Questa esperienza possiamo dire cinematografico-televisiva acquista un valore molto molto interessante, siamo all'inizio degli anni 60 all'interno di un percorso di rigenerata valorizzazione della Prima Guerra Mondiale, era da poco avvenuto il quarantesimo anniversario della vittoria, sappiamo come il ministro della difesa Andreotti contasse molto su questo tipo di celebrazione per in qualche modo cementare, per dare vigore alle tradizioni militari delle forze armate, per cercare anche di superare il trauma della Seconda Guerra Mondiale e quindi la Grande Guerra rappresentava insieme ovviamente al Risorgimento un'occasione molto interessante, molto propizia, per offrire un volto presentabile della vita militare, della storia bellica del paese. Sapremo poi nel 68 come ci sarebbe stata per il cinquantesimo anniversario della vittoria un'occasione maggiore di celebrazioni in tal senso, nonostante i coevi movimenti del 68 con tutto ciò che ne avrebbe comportato. Ma nel 61 rappresenta secondo me un'occasione molto molto interessante ed è importante che fosse stabilito come prima programmazione dell'inaugurazione del secondo canale. La storia è abbastanza semplice, racconta le vicende avvenute nell'autunno del 1915, siamo ancora nel primo anno di guerra per l'Italia, in una situazione del Carzo particolarmente drammatica con il tentativo di riuscire in qualche modo a sfondare, siamo nella quarta battaglia dell'Isonso con tutto ciò che ne comporta a livello di anche perdite umane. Nel racconto iniziale delle varie imprese, siamo nello scacchiere della brigata Sassari, in lo specifico il 152esimo reggimento di fanteria, e si ricorda nella introduzione del racconto le vicende nella trincea delle frasche del allora tenente colonnello Emanuele Pugliese, di cui abbiamo parlato ampiamente in un video apposito. Ma il racconto di questo sceneggiato è legato più alla preparazione, all'analisi introspettiva dei protagonisti, delle vicende anche umane dei soldati, piuttosto che nel rapporto con il nemico, con l'attività prettamente operativa, e quindi anche il fatto di dedicare il titolo la trincea come un qualcosa appunto di fotografico della realtà, ferma, bloccata, con tutte le problematiche appunto che avevano le truppe, tant'è che appunto poi la parte operativa, la parte prettamente bellica avrà una parte molto modesta alla fine dello sceneggiato, e si inquadra il rapporto molto dettagliato del rapporto tra ufficiali e tra ufficiali e truppa nella narrazione di Giuseppe Dessì, il maggiore Giuseppe Dessì che ha curato il soggetto e che è il protagonista di questo episodio, il maggiore che era il comandante del terzo battaglione appunto del 152esimo reggimento fanteria, che in qualche modo cerca di trovare una soluzione a una missione quasi suicida, c'è la trincea dei razzi che è appunto un obiettivo difficilissimo che è stata occasione di numerosi attacchi falliti, beh è toccato il suo turno e un suo collega colonnello dello Stato Maggiore cerca in qualche modo di convincerlo nella bontà di provare un'ennesima volta, ma il maggiore che è consapevole ha un bagaglio tattico operativo particolarmente radicato, cerca di spiegare come in realtà l'attacco potrebbe essere fatto, non nega l'importanza e la fattibilità dell'attacco ma in un altro modo, operando in diverso modo l'artiglieria divisionale, operando in diverso modo l'attacco specifico e dando sicuramente una ampia libertà di decisione nei tempi e nei modi allo stesso comandante del battaglione che si affida alla capabilità, alla tenacia, alla durezza di spirito dei suoi fanti sardi con tutta una certa descrizione anche musicale con il ricorso a degli elementi della tradizione sarda e quindi in questo senso si va un po' anche a rafforzare il rapporto tra comandanti e semplici soldati. Lo sceneggiato diretto e sceneggiato anche sotto l'aspetto di sceneggiatura da Vittorio Cottafavi rappresenta veramente un'occasione interessante di come trasmettere il cinema in televisione e quasi la televisione al cinema. È un pezzo di documentario potremmo dire un po' datato, un pezzo di storia della televisione un po' datato, l'aspetto delle luci, l'aspetto dell'utilizzo di cameraman mobili che danno un po' l'impressione di non trovare sempre il fuoco giusto su chi parla, sul protagonista di turno, ma secondo me dà una certa freschezza, da una certa anche capacità di innovazione pionieristica di fronte appunto a temi molto molto delicati e con una freschezza teatrale. Non a caso, ecco, e questo arriva il discorso dell'aspetto teatrale di questo sceneggiato, abbiamo i fratelli Giuffré, Aldo e Carlo Giuffré che fanno un po', soprattutto Aldo che fa un po' la parte del leone nella parte del protagonista che regola la scena, è un po' lui che crea l'ambiente, che detta i tempi, i modi dei dialoghi, del tipo di atteggiamento che tutti i vari personaggi devono in qualche modo avere. E' quindi molto interessante la sua mimica facciale, la sua capacità istrionica nel dipingere la situazione. E questo vale molto ancora di più, visto il consigliato che avrebbe forse avuto esperienza, questo avrebbe dato esperienza anche per un'altra occasione di trincea nel buono e il brutto e il cattivo di cui abbiamo parlato in qualche video precedente. Quindi è qualcosa che va un po' a costruire questa sperimentazione, questa capacità di adattabilità a forme nuove. Lui che aveva appunto sperimentato a partire dal teatro, dalla radio, dal cinema, da tutta una serie di occasioni di artistiche professionali molto molto variegate che appunto lo avrebbero poi contraddistinto anche nei decenni a seguire, visto che ebbe una carriera lunghissima. Non minore intensità il fratello Carlo, ma anche tutta una serie di altri attori. Pensiamo a Lando Buzanca, pensiamo a Vittorio Stagni, uno dei grandi capifamiglia di una delle grandi famiglie di doppiatori italiani. Quindi veramente c'è tanto condensato in 45 minuti e potremmo dire che vi è un agglomerato di espressioni, di caratteristiche appunto del cinema, del teatro stesso, della televisione che si vanno in qualche modo a rendere complementari. Una nota critica e una nota critica da cui poi è nata l'idea di fare questo video è sull'analisi degli elmetti. Bene, siamo nell'autunno del 1915 e sappiamo come gli elmetti Adrian di fabbricazione francese stanno arrivando. Non c'è una grossa distribuzione. L'Italia, come del resto gli altri paesi, è entrata in guerra senza un'adeguata copertura protettiva della testa. Ebbene, quindi la distribuzione arriva veramente in maniera poco capillare. E vedere un numero abbastanza ampio di soldati con gli elmetti Adrian, tra l'altro di modello, alcuni di modello 16, rappresenta un po' un aspetto distonico rispetto alla grande accuratezza nella descrizione dell'autunno del 1915. Quindi diciamo, se dobbiamo trovare un neo, lo troviamo in questa scelta di non curare fino al dettaglio più intimo, più particolare questo aspetto. Per il resto è un film molto molto godibile, di 45 minuti, che ha una sua anche capacità di stile, di ritmo, nonostante appunto sia datato, stiamo parlando di 60 anni fa, quindi con dei sistemi completamente diversi, con un bianco e nero molto dilatato, che però appunto con delle luci che riguardano la trincea, con un aspetto cupo, con un aspetto molto scuro, ma che rende secondo me anche il sistema, come si viveva, come si riusciva in qualche modo a sopportare anche la noia, anche tutti i momenti di stasi che la trincea inevitabilmente rappresentò. Con detto questo, come alzato vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!